Ok, ci siamo, torniamo a soffrire un po', Pier Giorgio Bucci, Casalo Zed, loro zero primo round, andiamo avanti con il secondo round, forza Pier Giorgio, si parte sul verticale Bene, i primi tre salti, ora la riviera, si torna indietro per affrontare lo specchio d'acqua, si alza qualche goccia ma è solo un po' di sabbia che entra nella riviera Eh sì, ce la devo fare qua, un triplice, due, tre, quattro, cinque, sei tempi, sei tempi, in avanti l'errore sull'Oxer La doppia gabbia, calma, è cortissima Una girata, ma la destra deve mettere subito un po' di ordine per il verticale E ora, l'ultimo salto E chiudo quindi con quattro, c'è un errore per Pier Giorgio Bucci C'è un errore, sì, sì, sull'Oxer, organizza perfettamente i sei, vengono più comodi gli altri, Calo si appiattisce un po' Bisogna andare avanti, tenere duro e soprattutto non mollare, no? Dopo un errore non lasciarsi andare come spirito soprattutto La notazione è stata perfetta che s'assistitiva in alcuni, non mi tengo un po' di ordine per il calcio, c'è un po' di ordine per il calcio